Allora, i libri che mi sento di consigliarvi per questo lungo periodo in casa sono due. Il primo è questo qua, si intitola La pietra di luna di Wilkie Collins, è un libro del 1868 che venne pubblicato a puntate sul giornale di Charles Dickens. Collins e Dickens erano molto amici e poi venne pubblicato come romanzo. Esistono anche delle riduzioni teatrali, anche televisive, perché è molto bello. Elliot dice che questo è il primo romanzo poliziesco, il primo thriller, il primo giallo della storia, della letteratura, quindi che non è vero che Edgar Allan Poe è stato quello che ha inventato il genere, ma che il genere l'ha inventato Wilkie Collins. Si tratta sostanzialmente del racconto della sparizione della pietra di luna che è un diamante e delle indagini per ritrovarlo. Allora, ci sono due particolarità nel libro. Il libro è estremamente piacevole, anche se in realtà sono circa 600 pagine e si succede super bene. E ha un meccanismo per cui è veramente difficile capire che fine ha fatto, cioè chi è stato a rubare la pietra di luna. Però ci sono due cose che volevo far notare. La prima è che è scritto in forma epistolare, quindi i protagonisti raccontano, su richiesta di uno dei personaggi, la loro, ognuno ha la loro parte di storia. E questo è divertente. La seconda è che c'è un argomento all'interno del libro, se pensate appunto scritto nel 1868, che è ancora oggi estremamente contemporaneo, e si tratta dell'uso di oppio. Wilkie Collins era un oppiomane che usava per curarsi dalla gotta, e nel libro c'è proprio un riferimento, cioè c'è un personaggio che ha questo tipo di problema, e che è anche un personaggio fondamentale nella concatenazione degli eventi. Quindi è un passo indietro nel tempo, una specie di Downton Abbey versione giallo, che lo rende molto molto piacevole, molto divertente. Il secondo libro è questo qui, Instant Moda. È bello perché l'ho scritto io, è una storia della moda. Se non ne sapete niente di moda, io vi consiglio di leggerlo. Ho cercato di usare un linguaggio comprensibile a tutti, si parte dalla rivoluzione francese, e si arriva praticamente oggi, e cerco di spiegare perché ci sono un sacco di cose che si sanno della moda, ma che non si capiscono, e poi ci sono anche un sacco di cose che della moda non si sanno, e che si dovrebbero sapere. Ciao ciao!